Carlo Buttic, quarta rete stagionale, dopo le tre dell'anno scorso, quindi hai migliorato il tuo score. Peccato non sia stata una rete da tre punti. Sì, peccato veramente che non ha portato tre punti, però siamo contenti di nostra gara che abbiamo fatto contro una squadra veramente forte. Adesso guardiamo avanti e preparare la partita contro Parma. Il Pordenone hai visto? Ti aspettavi una prestazione così di squadra? No, un Pordenone forte che ormai da tempo sta facendo un ottimo campionato, solo che abbiamo avuto un po' di sfortuna, però secondo me stiamo facendo veramente bene e dobbiamo continuare così. Oggi avete giocato 4-3-1-2, quindi con le due punte vicine. Come ti sei trovato? No, con questo modulo qua diciamo che mi trovo il meglio, perché sono con una punta vicino, che lavoriamo insieme, quindi con questo modulo mi trovo bene. Peccato per il rigore finale, insomma avete magari consolato dei... No, ma non serve neanche a dirgli niente, perché ha tirato rigore bene, secondo me è stato bravo portiere, poi i rigori si sbagliano, sono anche portieri bravi, quindi niente, tanto lui anche sa che è un rigore, quindi niente, guardiamo avanti. A questo punto non cambia molto la classifica, ma dimostra che siete vivi. Con che spirito sei, insomma, in ogni partita, se c'è il panno, se c'è una squadra fortissima, come la state vivendo? No, ma noi siamo consapevoli adesso della nostra forza, perché veramente, come ho detto prima, stiamo giocando un ottimo campionato, secondo me, però la classifica dice che non è così, e quindi dobbiamo dare di più e dobbiamo fare di più e lo facciamo sicuro. Grazie.